Sindaco, in Consiglio d'Abruzzo è stato approvato questo provvedimento di legge che tende a favorire l'accorpamento dei comuni sotto ai 5.000 abitanti. Però in realtà non è un obbligo. Ma io direi che la fusione di cui si parla, di cui comunque sono state rese note le caratteristiche, non è obbligatoria ma soprattutto non sia un procedimento adatto anche ai nostri territori o comunque ai piccoli comuni. Perché incentivare una fusione tra i piccoli comuni significa comunque cercare di rendere omogenee varie aree e varie territori che ognuno per sua conformazione ha delle esigenze e delle caratteristiche diverse pur magari essendo confinanti tra di loro. Il discorso che magari viene evidenziato sul fatto del risparmio può essere anche quello un discorso discutibile perché comunque alla fine i piccoli comuni sono monitorati e controllati anche in tempo reale su quelle che sono le attività dei costi e delle spese da rendicontare. Ma soprattutto sono oggi enti che riescono a dare risposte ai concittadini e alle concittadine spesso anche in tempi molto più brevi rispetto magari ad altre situazioni, ad altri enti. L'ente comune di Ancarano è un ente in salute quindi ad oggi viene gestito con la massima attenzione soprattutto nell'ottica della valutazione tra investimenti e costi. E' chiaro che comunque oggi io come sindaco non ho anche nel potere nemmeno le caratteristiche per poter decidere quello che è il bene o il male della nostra comunità. Quindi oggi il comune di Ancarano continuerà ad andare avanti. E' chiaro che come piccolo comune ci tiene a mantenere la propria identità, la propria conformazione per cui il comune di Ancarano per me deve rimanere il comune di Ancarano.